Eccoci di nuovo assieme, voltiamo pagina, cambiamo argomento e parliamo adesso di un compleanno, un compleanno che è stato festeggiato in queste ore a Bologna e che verrà festeggiato con tanti avvenimenti anche nelle prossime settimane. Stiamo parlando dei dieci anni di Casa Ail Bologna, Casa Ail è l'associazione ricordiamo italiana per la lotta alle leucemie, ai linfomi e adesso ci spiegherà meglio la nostra ospite anche perché come vedete non sono da solo ma sono in compagnia di Sara Zago che è la responsabile della Casa Ail di Bologna. Buonasera Sara e benvenuta a Tele Santerno Cronache. Buonasera a tutti voi. Allora Sara in queste ore c'è stato un compleanno, c'è un volantino, c'è un flyer che richiama il nome, i dieci anni di Casa Ail, è stato festeggiato in queste ore, ieri tu sei reduce da questi festeggiamenti, da queste presentazioni, possiamo dire partiamo, facciamo un passo indietro, raccontiamo che cos'è l'Ail e Casa Ail Bologna, partiamo, direi di partire da qui. Ok, Ail Bologna è la sezione autonoma di Bologna dell'associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma e ha tre missioni principali nella sua azione, sostenere la ricerca scientifica dei medici e dei professionisti e ricercatori dell'istituto di ematologia Seragnoli che si trova all'interno del Policlinico Sant'Ossola di Bologna e organizzare e migliorare i servizi socio-assistenziali dei pazienti, delle loro famiglie, sempre su Bologna e quello di sensibilizzare l'opinione pubblica verso le malattie del sangue. Casa Ail ha festeggiato in queste ore dieci anni, tu sei la responsabile di Casa Ail perché avete voluto fare questo punto fermo nella vostra attività? Abbiamo voluto evidenziare alla città di Bologna l'importanza di questo servizio di assistenza che appunto ieri ha compiuto dieci anni. È stato costruito a Casa Ail nel maggio del 2005 grazie alla fondazione Isabella Seragnoli e dato, incomodato gratuito, la nostra associazione. Per cui sono dieci anni che questo servizio di assistenza permette di accogliere più di 160 nuclei familiari all'anno. Sono tutte persone che non risiedono nella provincia di Bologna e che sono a Bologna perché sono in cura presso l'Istituto di Amatologia Seragnoli. Accogliere che cosa vuol dire? Che cosa accade in questa casa? Perché è una vera e propria abitazione, una casa. È come se fosse una casa, nel senso che ci sono 12 camere a disposizione, sono camere doppie con il bagno privato. È come se fosse un albergo ma si chiama una casa perché grazie anche alla presenza dei nostri volontari il clima è quello di un clima di condivisione, di compagnia e quindi di supporto a queste persone che arrivano tutte da fuori città. E che stanno facendo un percorso... E che stanno facendo un percorso di terapia presso l'Istituto Seragnoli. L'Istituto Seragnoli è un centro molto importante per le cure ematologiche dove si fanno delle terapie sperimentali e porta tantissime persone da tutte le parti d'Italia, anche dall'estero. Per cui avere Casail è un appoggio logistico molto importante perché è di fianco a Sant'Orsola per cui i pazienti possono arrivare in 5 minuti verso il luogo di terapia ed è un'accoglienza gratuita. Perché questo deve essere, insomma, così è stata pensata. Tu fai un lavoro davvero molto speciale, come accogliete queste persone? Qual è la mission principale o l'obiettivo che cercate di raggiungere attraverso questa struttura, questo servizio? Come ti dicevo prima, la casa è molto importante. Una per la posizione logistica e la seconda è quella appunto di essere un luogo di condivisione, e quindi di fare un'accoglienza di persone che in questo momento arrivano nella nostra città ed hanno un momento molto difficile perché è una malattia difficile da affrontare. Lunga, molto lunga. Molto lunga perché ci sono delle terapie che possono durare anche 30 giorni, per cui dargli un punto di riferimento soprattutto a livello morale. Quindi dimostrare che c'è una città accogliente pronta appunto per accogliere questi pazienti. Tra l'altro casa Aile, se un giorno volete venire a visitarla, ha un ambiente molto idoneo, accogliente, nel senso che è fatto veramente come un albergo, grazie appunto alla Fondazione Seragnoli che l'ha costruita in maniera veramente speciale. L'Aile è un'associazione a livello nazionale, strutture come queste non sono solo a Bologna? No, ci sono una trentina di case Aile in tutta Italia e ognuna ha un suo regolamento, ognuno ha un appartamento oppure appunto una residenza privata come la nostra un po' più grande, Siete in rete, vi conoscete, vi comunicate, capita? Sì, una volta all'anno con le varie attività istituzionali dell'Aile nazionale ci ritroviamo. Vi ritrovate. Esatto. E quindi ieri è accaduto che c'è stato questo punto per fare, è stato un momento, possiamo dirlo così, per mettere un punto fermo su quello che è stato fatto, sulle cose che ci sono ancora da fare. Sì, esatto, non è un traguardo, è un festeggiamento, un richiamo a un servizio di assistenza che dovrebbe esserci per ogni reparto sanitario, per cui è stato fatto proprio una giornata di festeggiamenti per dimostrare appunto l'importanza di questo servizio assistenziale. Tra l'altro all'interno di casa Aile avvengono anche altri servizi di assistenza, un'assistenza psicologica. Una serie di servizi nel servizio. Esatto, una serie di servizi nel servizio appunto, come dicevo prima, poi questi volontari che sono un po' il cuore della casa, quindi una presenza costante ma discreta. Ecco, ricordiamolo che su base, buona parte su base volontaristica, quindi ci sono persone che dedicano parte del loro tempo libero. Esatto, anche solo una volta a settimana, un paio di due ore, sono a disposizione di questi pazienti o anche solo degli accompagnatori perché il paziente può essere ricoverato in ospedale e l'accompagnatore può essere in casa Aile da solo. Inoltre, in casa Aile avvengono molto spesso alcune campagne solidali di Aile Bologna e il fatto che avvengono proprio in casa Aile permettere agli ospiti di essere attivi, di essere coinvolti. Protagonisti. E spesso gli ospiti diventano volontari. Vedi bene, questa è una storia molto molto bella. E a proposito di campagne di solidarietà, vorrei dire che ci sono tutta una serie di iniziative che voi avete messo in campo per dare ancora più visibilità al vostro lavoro. Innanzitutto c'è un video, un video che è stato realizzato con la collaborazione di Samuele Bersani che ha voluto dedicare parte del proprio tempo e della propria professionalità insieme ad alcuni pazienti. Prima lo guardiamo prima e poi dopo lo commentiamo. Guardiamo assieme questo video di pochi secondi che è stato realizzato con Samuele Bersani. Ogni luogo ha la sua musica, che sia familiare o inaspettata, condivisa o personale, che rende liberi o toglie il sonno. E poi ci sono luoghi dove la musica arriva dal cuore, come Casa Aile. Allora Sara, abbiamo visto il video, un breve commento, come è nato? Il video è nato grazie a Riccardo Frati, un nostro giovane volontario e grande regista creativo che appunto la scorsa estate ha girato questo video in Casa Aile con Samuele Bersani, il nostro grande ospite. E il video, come vedete, racconta un po' quello che Casa Aile ti porta quando entri, quando senti... Tutta una serie delle sensazioni, le emozioni. Esatto. E a proposito di video, di videomaker, cambiamo un po' la parola, però l'argomento è sempre lo stesso, c'è anche un concorso. Questa volta vede il protagonista e il regista, Ferza Nozpitek, che arriverà a Bologna nelle prossime settimane. Perché? Esatto, perché il 18 giugno verrà appunto la premiazione di questo concorso che è il Bologna organizza ogni anno, che si chiama Take Action e che è rivolto ai giovani videomaker e permette appunto di realizzare un corto sempre per sensibilizzare sul valore del volontariato e sul sensibilizzare sempre sulla missione di Bologna Aile. I vincitori ottengono un'esperienza lavorativa e appunto questa giornata bellissima dove si vedono tutti i corti dei giovani che provengono da tutta Italia, viene organizzata al MAS e sarà il 18 giugno. E quindi il 18 giugno ci sarà un vincitore presente anche Ferza Nozpitek. Sarà premiato usato dal regista. Allora, sono tantissime le attività e pochissimo il tempo che ci rimane. Un'ultima di queste è una cena di beneficenza. La domanda come è possibile aiutare Casa Aile? La prima risposta è questa, cioè venite il 4 giugno, anzi iscrivetevi al 4 giugno ad una cena stellata o stellare potremmo dirlo così. Si chiama Chef per Casa Aile. Sarà il 4 giugno a Palazzo Albergati a Bologna. In questo caso che cosa accade invece? Avete riunito i migliori chef che ci sono... I migliori chef grazie appunto alla ristassociazione Tortland, esatto, con il nostro chef Mario Ferrara, Andrea Bandiera e Gino Fabri hanno organizzato questa cena di raccolta fondi. Certo. Il cui ricavata andrà tutto a Casa Aile perché Casa Aile, come ti dicevo, è un'accoglienza gratuita, si sostiene grazie solo alle donazioni di privati, fondazioni, aziende e sostenitori ed eventi di raccolta fondi come chef per Casa Aile. Quindi alla cena bisogna partecipare, ci sono ancora un po' di posti, quindi è una cena molto bella in un posto davvero molto bello. Per chi invece non riuscisse a partecipare alla cena di finanziamento, di sostegno ad Aile, è possibile comunque cercarvi, avete un sito internet, immagino, c'è tutto? Certo, abbiamo un sito internet www.ailbologna.it, possono fare non solo donazioni ma anche diventare nostri volontari, aiutarci in tutta la missione per aiutare appunto sia la ricerca scientifica che i pazienti. Grazie Sara, grazie per il tuo lavoro, per il lavoro che fai e per l'aiuto che dai a queste persone, grazie ai nostri telespettatori se andranno a visitare il sito di Aile e se parteciperanno alla cena, noi intanto andiamo avanti con il nostro telegiornale. Grazie. Grazie.